Musica In parte porti aperte nel 2019 della Scuola Politecnica delle Scienze di Base è un'iniziativa che è punta a favorire l'orientamento di ingresso agli studenti di scuola superiore portandoli nelle nostre aule, nei nostri laboratori Studiare al D.H. alla Federico II significa sacrificare tantissime notti di studio perdere grandissime soddisfazioni la Federico II è una delle più antiche università del mondo e per me significa qualità, storia e tanta tradizione e tanta cultura Un'offerta didattica ampia e articolata che parte dai corsi di laurea noi abbiamo due filiere di architettura una quindi con la laurea triennale in scienze di architettura che si completa con una laurea specialistica magistrale in architettura più legata ai temi del progetto di architettura e poi abbiamo una di cinque anni che è quella richiesta e conforme con la normativa europea ed è una laurea che riprende un po' la nostra storica convenzionale tradizione degli studi di architettura che si sono sempre svolte in cinque anni poi abbiamo un'offerta che si articola in una maniera più ampia in relazione agli studi sulla città e sull'urbanistica perché abbiamo una filiera di un corso internaio e un corso diennale appunto in progettazione territoriale, urbanistica, paesaggistica infine la nostra offerta formativa complessiva si definisce un altro corso magistrale cioè biennale che è il corso di design for building environment un corso sostanzialmente collegato sull'innovazione tecnologica ho scelto ingegneria per la passione che ho sui motori sin da piccolo mi piaceva collezionare macchinine e guardare la formula 1 assieme a mio padre questa cosa mi ha condizionato molto in bene ovviamente e poi dall'ateneo dell'età di 7 anni che ascoltavo mia cugina di ripetere la tesi in ingegneria civile magistrale questa cosa mi ha letteralmente preso nell'essere studiarla qui significa studiare in un ateneo che ha tradizione che è sinonimo di qualità, che è sinonimo di esperienza e che è anche un marchio di fabbrica per il futuro che corrispondono all'estraordinario ventaglio i percorsi scientifici e tecnologici dell'ingegneria oggi per poter adattere ci aiuta la strutturazione nelle classi, nelle grandi aree quindi la grande area civile, l'area industriale, l'area elettrica delle tecnologie dell'informazione questo raggruppamento è almeno un primo approccio tra tre grandi classi e tre grandi abiti forte rinnovamento della propria offerta didattica i percorsi tradizionali vengono ovviamente rafforzati, rivisitati rimangono però la base fondante a fianco a questi però si stanno portando avanti anche dei nuovi progetti l'ingegneria meccatronica, la laurea triennale professionalizzata in ingegneria meccatronica è una di queste è un'altra forma di formare un ingegnere junior in grado di entrare bene nel mondo del lavoro già dopo tre anni attraverso anche delle modalità di formazione didattiche un po' particolari che privilegiano il learning by doing la forma del tirocinio dello stagio in azienda poi c'è l'offerta magistrale sull'offerta magistrale il tema è stato quello di attivare dei corsi di laurea magistrale a forte carattere trasversale all'industrial bioengineering e alla matematica di engineering già esistente l'anno prossimo partirà il corso di laurea magistrale in data science in senso che intende rispondere al grande fabbisogno che si avverte che sia ancora di più in utile e in prospettiva per l'analisi dei grandi dati Io ho scelto di frequentare la Federico II perché essendo una delle università migliore ma soprattutto avendo una vasta scelta di corsi mi è sembrato di sicuro la scelta migliore Scienze significa 5 dipartimenti 5 dipartimenti che vanno dalla biologia alle scienze chimiche geologia matematica fisica 9 corsi di studio di durata triennale e 11 corsi di studio di durata viennale cioè le lauree magistrali allora la scienza incopre praticamente tutti gli aspetti significativi delle scienze moderne le novità particolari riguardano soprattutto le lauree magistrali per quanto riguarda la laurea magistrale di scienze tecnologiche e la lingua magistrale con un nuovo curriculum formulazione fortemente voluto da FederChimica ancora biotecnologie ha previsto una laurea magistrale in lingua inglese questo è per aprire i nostri studenti anche all'internazionalizzazione e infine un data science che è una laurea magistrale interdipartimentale quindi incardinata nel dipartimento di fisica che cosa consigliare a uno studente che decide di iscriversi a un corso di laurea scientifica? allora sicuramente di seguire la propria passione però passione non solo è necessario anche essere consapevole di che cosa si vuole fare un domani grazie grazie